Non è una cosa a tutti i giorni vedere dei primati del mondo nelle grandi manifestazioni. Jaroslav Baba, 2.29, secondo tentativo. Parte Baba, 2.36 quest'anno, va anche lui, supera la misura. Quindi, diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, gli atleti che hanno superato 2.29 metri. Mini pausa per noi.